Grazie Buongiorno, posso fare le tue domande veloci? Spero di poter rispondere velocemente Allora, la prima è lei, cosa leggeva da piccolo? Da piccolo leggevo sia Disney che Capitan Bicchi, Gran Black, Monello, in Italia Ha influenzato la sua carriera fumettistica? Sicuramente si, specialmente Disney e Diego Vitti C'è un personaggio della Disney in cui si rispecchia? No, non mi identifichi nessun personaggio della Disney Mi piacciono tutti o quasi tutti Ma non c'è uno in particolare in cui mi posso identificare Grazie mille per il suo tempo e buona giornata Grazie Ciao Ciao Grazie Ciao